Cominciamo dall'Ariete. La giornata sarà amica e complice di tutte le coppie felici, ma anche di coloro che non sanno rinunciare al piacere di un'avventura. Toro, va detto subito che la giornata non gira, a vostro favore. Se lavorate in squadra con altri, non date troppa importanza a colleghi che mancano di lealtà o di sincerità nei vostri confronti. Gemelli, una bella soddisfazione nel lavoro porterà un po' di luce in questa giornata grazie all'appoggio delle stelle. Godetevi il meritato successo. Non ci sono contrasti astrali neppure per quanto riguarda la sfera amorosa. Cancro, la lucidità delle vostre idee e dei vostri ragionamenti, affilati come una lama di un coltello appena uscito dall'arrotino, sarà palesi a tutti. Non farete perciò una gran fatica a risultare convincenti in quanto vi apprestate a fare. Leone, novità molto interessanti si prevedono nella vostra attività professionale. È anche probabile che una vostra aspettativa sia presto esaudita. Vergine, un'intensa creatività dovrà trovare una valvola di sfogo in un'attività speciale. Per esempio imparate a suonare uno strumento o dedicatevi a qualche cosa che abbia a che fare con l'arte. Bilancia, giornata proficua dal punto di vista lavorativo. Siete in gran forma e pronti a realizzare un progetto ambizioso. In amore, momenti emozionanti si annunciano per tutti, ma soprattutto per i single e i più giovani. Scorpione, è nel settore professionale che potrete meglio sfruttare le opportunità di questo giorno. L'intuito vi tiene allerta. Sagittario, gli astri propongono un umore decisamente brillante e opportunità da cogliere al volo. Nel lavoro la vostra intraprendenza farà faville e potrete affrontare le situazioni più impegnative senza fare una piega. Capricorno, in questo momento vi sentite speciali, forse molto diversi dalla maggioranza delle altre persone, per questo siete alla ricerca di interessi fuori della norma e di soddisfazioni professionali particolari. Acquario, giorno strano sotto il profilo sentimentale, con alti e bassi. La situazione astrale è complessa per quanto vi riguarda. Pesci, sia che si tratti del lavoro che della famiglia, il denominatore comune sarà la ricerca di punti di appoggio e di sicurezza. Sotto il profilo finanziario comunque la giornata promette bene. Grazie a tutti.